Massimiliano Fedriga, questo governo e questa maggioranza fanno ancora un passo avanti a favore dei clandestini? Sì, noi lunedì abbiamo presentato una mozione per chiedere che venga ripristinata la legalità nel nostro paese. Abbiamo molti CIE chiusi a causa degli atti violenti compiuti dai clandestini stessi e la mozione di maggioranza che ha approvato il PD insieme, drammaticamente, anche nuovo centrodestra e scelta civica prevede che invece vengano nella sostanza lasciati liberi queste persone perché vogliono diminuire la presenza all'interno dei CIE quindi il periodo per il quale è necessario fare il rimpatrio degli stessi clandestini. Anche noi siamo favorevoli che i clandestini rimangano poco nei CIE ma per rimpatriarli e non per lasciarli circolare liberi sul nostro territorio. Lei poi ha lanciato un'accusa ai grillini, perché? La parte di Grillo si sono astenuti sulle mozioni di SEL e della maggioranza e della Lega senza prendere una netta e chiara posizione sull'immigrazione. È chiaro però che il loro profilo è di estrema sinistra, non a caso nella loro mozione chiedono un percorso privilegiato per trovare lavoro per gli stranieri. In un momento nel quale abbiamo più del 40% di disoccupazione giovanile e il 12,5% di disoccupazione generale è inaccettabile che si chieda un percorso privilegiato per gli stranieri e non per i cittadini del nostro paese.